Siamo con il docente Francesco Bertucci, responsabile di questo progetto. È un progetto importante anche perché legarsi a Bergamo Scienza ha sempre un significato particolare per questi ragazzi. Sì, diciamo che un po' per mettere in pratica le cose che facciamo in classe, un po' per rendere i responsabili e fargli organizzare delle attività in prima persona diventa sempre molto importante. Poi in questo modo riusciamo a mettere assieme tanti aspetti diversi, tante materie, tante discipline diverse su uno stesso tema ed è una cosa che non sempre si riesce a fare nella normale attività didattica. Per cui è sempre un'attività molto importante. Noi l'abbiamo fatta parecchi anni, abbiamo saltato un paio di anni del Covid. Quest'anno abbiamo ripreso ma diciamo che ormai è un'attività consueta che ogni anno rimettiamo in campo. Ci presenti questa mostra? Sì, in particolare quest'anno abbiamo scelto un tema particolarmente interessante per noi nel senso che lo studio della realtà molto spesso è complicato per cui spesso in molte discipline, sia quelle scientifiche ma non solo, si simula la realtà utilizzando dei modelli. infatti il titolo della mostra è proprio un modello per puntini puntini che poi viene declinato in diverse discipline, dalla biologia alla fisica, anche all'arte. Quindi sono diverse discipline che contribuiscono per esemplificare questo utilizzo di modelli in diversi ambiti. La risposta dei ragazzi come è stata? Loro quando si fanno queste cose sono sempre molto entusiasti in effetti. Abbiamo cominciato alla fine dell'anno scorso dandogli un piccolo compito, poi all'inizio di quest'anno scolastico ci siamo messi a lavorare i pomeriggi e ognuno ha inventato qualcosina per attenersi al tema che avevamo proposto. Ma li vedo molto contenti soprattutto quando devono avere un rapporto con il pubblico, si responsabilizzano, diventano più grandi. Secondo me la cosa importante è che oltre che imparare degli argomenti che facciamo anche a scuola ma diventano proprio più maturi. È un'attività che gli aiuta molto a maturare. Il rapporto con il pubblico soprattutto gli dà sicurezza. Che modalità d'accesso ci sono per tutti i cittadini seriani per vedere questa mostra? Allora diciamo che durante la settimana dal lunedì al venerdì abbiamo preso prenotazioni da parte di altre scuole della zona circostante. Poi sabato mattina, pomeriggio e domenica mattina è aperta anche al pubblico. Se ci sono eventualmente persone che vogliono partecipare possono prenotare andando sul sito di Bergamo Scienza oppure venire direttamente qua sabato mattina anche il pomeriggio e poi la domenica. Come è stata questa esperienza? Cosa avete fatto materialmente? Allora diciamo che il tema di quest'anno di Bergamo Scienza era quello relativo ai modelli e in particolare quest'anno abbiamo trattato diversi tipi di modelli scientifici e non solo. Infatti uno di questi ad esempio era tema artistico e li abbiamo approfonditi con diversi esperimenti ma anche parti teoriche diciamo. Come è stato a lavorare con le tue colleghe diciamo? Allora è stato molto bello in quanto ci ha formato anche a livello di esposizione perché diciamo poter spiegare concetti anche difficili a diverse classi di diversa età ci ha fatto anche crescere penso e imparare a relazionarsi con gli altri insomma. Quindi cosa vuol dire partecipare a Bergamo Scienza e farlo così da protagonisti? Come esperienza è stata? Beh è stato molto bello io ho sempre visto i compagni più grandi e ho sempre partecipato a questa iniziativa e adesso essere dall'altra parte è molto interessante e anche fa crescere proprio personalmente. Cosa avete fatto? Io ero nel laboratorio del DNA e abbiamo portato un esperimento infatti noi abbiamo estratto il DNA dal kiwi e appunto facciamo vedere come farlo e come appunto cosa è veramente il DNA.